Sindaco, è la prima volta che succede una polizia generale ma seria sotto passo di Viale Crucioli. Siamo andati anche in un'attività privata chiusa da tempo dalla questura di Teramo. Piazza Caribaldi non può diventare lo zen di Palermo. Siamo in una fase in cui Piazza Caribaldi deve ritrovare completamente la dignità di una delle piazze più importanti della nostra città. Oltre ovviamente all'intervento strutturale di qualificazione ci sarà una rigenerazione complessiva e anche a seguito di una serie di situazioni che pur circoscritte richiedono un intervento immediato per quanto di nostra competenza nella riunione di ieri abbiamo determinato l'intervento immediato intanto per cominciare a ripristinare una situazione di deporo, risposta al degrado che su questa zona non possiamo assolutamente permettere. I residenti denunciano sempre schiamassi notturni, uso e abuso di sostanze superfacenti, alcol e dispaccio di droga. Questa è una questione che riguarda la nostra città come tante altre città perché è un fenomeno che si sta purtroppo diffondendo ovunque. Per quanto di competenza del Comune stiamo intervenendo, ovviamente insieme con tutte le altre istituzioni che ringrazio, le forze dell'ordine che prontamente intervengono in ogni situazione. Un intervento di sistema è quello che abbiamo messo in campo con tutte le istituzioni. Noi come Comune, con una Polizia Generale, abbiamo solo iniziato perché sarà un percorso che ovviamente non si fermerà nella giornata di oggi ma che ci consentirà appunto di intervenire su questo fenomeno che oggi è circoscritto e non si può assolutamente allargare. Grazie.